Allora, uccellini, siete pronti a visitare la fabbrica dei dolci? Certamente, siamo prontissimi! Allora, andiamo a visitare i bindi? Qui ci sono tante persone che lavorano per preparare tanti tipi di dolce gustosissimo! Gustosissimo! Certo! E allora andiamo! Ma certo! Preparerò le torte e i biscotti gelati e anche brioche! Mia mamma compra la torta da biondi! Sai quanti tipi di torta ci sono tantissime? Sei un segreto, Babetti? Sì, sono un segreto! Bene, andiamo! Tipi di, tipi di torta? C'è, tirami su! Troppi, troppi di rollo! Torta la fragola Torta la frutta, buonissima! Delizioso! Poi, poi c'è Cheesecake E poi c'è Mouse 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 Al limone E poi Vado a acquistare La torta della mamma Ok, come vuoi! Babetti! Noi abbiamo comprato anche la torta con lamponi e passion fruit! Andremo! Fabrica Bindi! C'è un bar dove si può mangiare le torte Il gelato Brioche A bere Cappuccino Oh, mi piace Davvero Oh, laia Mi piace molto la fabbrica dei dolci Bindi Lo adoro O, laia Uno A I O I Grazie a tutti